Il sedicissimo turno del campionato di Serie A comincia molto in anticipo con due anticipi inimportanti soprattutto sia per l'alta classifica che per la lotta per il terzo posto. Per l'alta classifica sfida inimportante alle 19 alla Sant'Elia tra il Cagliari e la Juventus. I ragazzi di Massimiliano Allegri che attendono la sorte del loro tecnico approntano un Cagliari certamente in condizione non semplice. I bianconeri cercano il riscatto dopo l'1-1 interno contro la Sampdoria mentre il Cagliari è riduce dal pareggio esterno di Parma per 0-0. Proprio i ducali saranno protagonisti dell'anticipo delle 21 al San Paolo contro il Napoli che cerca il riscatto dopo il Capo subito a San Siro ad opera del Milan mentre il Barma dopo il cambio di proprietà e con al momento la conferma di Donadoni cerca quantomeno il riscatto doveroso.